A te, a te sui mezzi di emergenza, a te in prima linea negli ospedali, a te che sei medico, infermiere, a te che sei nei laboratori, ricercatore, farmacista, a te che ti occupi del cibo, che lo coltivi, che lo trasporti, a te che ci trasporti, a te che ci difendi, a te che ti prendi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio, a te che sei anziano, bambino, grande, grande, a te che resti a casa, a te che sei malato, che sei guarito, soprattutto a te che stai ancora soffrendo, a te Italia. Insieme a te rinasceremo. Buona Pasqua.